ciao ragazze voi ritrovate allora volevo farvi vedere gli ultimi trucchettini che ho acquistato per quanto riguarda le labbra ovvero quindi i rossettini e matitine allora parto subito faccio vedere che sono un po allora prendo così a muzzo dalla busta ho preso tempo fa d'acqua e sapone qua c'è ancora la bandella antitaccheggio va bene tempo fa ho preso questi aiuto tanto discussi lip gloss della l'oreal infallible non mi ricordo come si chiamano comunque io ho preso il la texture matte perché ci sono appunto quelli gloss quelli lucidi brillanti blablabla e io ho preso la versione matte il numero 407 smoke me up dunque il colore è favoloso io non sono grande amante dei lip gloss ho sentito però parlarne molto bene perché appunto ha una resa simile a un a un rossetto e per cui detto proviamolo era in offerta lancio quando è uscito un masettino fa forse su 6 90 profumo buonissimo sempre come tutti i prodotti l'oreal questo è il colore è un colore bellissimo la durata non mi ha stupito particolarmente nel senso pensavo durasse di più anche se in effetti è un è un lip gloss in fondo quindi come durata non dovevo aspettarmi chissà che io comunque continuo a prediligere i rossetti classici anziché questo tipo di texture di finish comunque bellino la resa è molto bella bisogna un attimo fare pratica con questo applicatore perché appunto tirandolo fuori come vedete c'è parecchio prodotto sopra per cui bisogna scaricarlo un po' fare prima bene il contorno magari aiutarsi un pochino prima con una matita in genere faccio così e poi piano piano magari con l'aiuto di un pennellino un pochino più decente fare la linea più più meglio fare la linea nel modo migliore ecco quindi questo qua è il l'oreal numero 407 smoke me up questo il colore molto bello poi parlo di questi due i miei adorati nabla ho voluto prenderne altre due colorazioni io avevo già vertigo e mi ammirato assolutamente di questi rossetti e quindi ho voluto prenderne altre due colorazioni allora ho preso il beverly che era aspettate facciamo in ordine allora il pantarei che erano i colori usciti con la prima ondata diciamo che un colore nude molto elegante molto bello adesso ve lo sguardo qua eccolo qui meno quando lo metto mi fanno sempre tutti i complimenti perché un colore bellissimo che sulla mia carnagione sta molto bene è appunto è un nude un rosa antico se vogliamo chiamarlo però un po più acceso se vogliamo considerarlo così un rosa antico molto più acceso morbidezza eccezionale stesura eccezionale durata favolosa bisogna appunto solo fare attenzione che nella prima mezz'ora che lo si come tutti gli altri dello stesso brand tutti quanti hanno appunto questo fattore che appena la si stende è morbidissimo come il burro e sembra che non si asciughi mai in verità dopo mezz'oretta appunto si asciuga aderisce perfettamente le labbra e dura tantissimo pur mangiando bevendo una dorata eccezionale sulle mie labbra almeno 6 6 ore le fa tutte ovvio sempre se consumiamo un prodotti con una certa quantità di di olio tenderà comunque ad andare un pochino via ma le labbra comunque rimangono sempre colorate questo appunto è il colore mi sono resa conto di averne dimenticato uno dopo scendo e mi prendo anche un altro rossettino che ho comprato poi dicevo sempre di nabla ho preso il colore beverly che è uscito nelle colorazioni successive insieme a belkiss balkissi che però non mi ha colpito particolarmente questo invece mi ha colpito moltissimo i colori in sacche sono un po' sfalsati ve lo sfoccio eccolo qua è un colore bellissimo io lo definirei dunque in camera risulta un po' sfalsato però secondo me è proprio un rosso fragola elegantissimo bellissimo e molto forte quindi non so se beh io magari ogni tanto oso anche a metterlo durante il giorno però comunque un colore molto forte quindi se se preferite di giorno un colore un po' più tranquillo magari tra i due ecco sicuramente pancarei e so che anche ombre rose è molto molto bello dopo poi vi vado a prendere l'altro che non è nabla però dopo ve lo faccio vedere poi ho comprato questo inizio agosto prima di andare via per le vacanze ho voluto provare uno dei nuovi rossettini dell'alchemil li ho sbocciati in negozio a torino da melissa e mi sono fatta mi ha colpito questo qui amaranto che più o meno è sempre sulle stesse corde però questo qui è una punta più di fucsia decisamente più fucsia rispetto agli altri vedete si vede anche bene è un bellissimo colore estivo ma comunque io non mi faccio problemi lo metto anche l'inverno perché no ci sta ogni tanto di dare più colore al viso è bellissimo rispetto magari a questo qua è completamente comunque bio quindi ingredienti naturali mentre in nabla comunque è sorta tutta una varia una grande polemica sul fatto che comunque contiene anche ingredienti non completamente biologici biodegradabili e questo qui ha una coprenza differente nel senso che la stesura è meno burrosa e meno coprente ma comunque molto molto confortevole non ha una durata eccelsa come in nabla però è molto confortevole molto carino e quindi perché no se se vi piace se vi piace cioè se non esigete da un rossetto una durata stratosferica comunque questi qua sono carini con buon inci per cui il prezzo non è neanche eccessivo perché il prezzo pieno mi sembra che sia 10 euro per qualcosa per cui perché no si può si può fare si può valutare poi in gamma ci sono veramente tantissimi colori quindi una bassa scelta poi ho preso da sephora che non mi ha invece entusiasmato saranno le mie labbra non lo so ho preso questo rossetto qui di quelli a lunga durata adesso non mi ricordo la sigla il nome di questo rossetto poi me lo metterò scritto da qualche parte comunque ho preso questi questi qua così questo è il colore 5089 a no no ho scritto numero 09 piccolo 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 metti a fuoco metti a fuoco comunque lo 09 e questo rosa barbie shocking colore molto bello però è talmente pastoso spessa come texture che non mi piace assolutamente come risulta sulle labbra perché non è per niente omogeneo allora steso così assolutamente c'erano delle zone più piene di colore e altre più trasparenti quasi ho provato allora picchiettarlo con le dita niente ho provato allora poi a rendere un pochino più omogeneo magari col pennello con la spugnetta niente quindi non so magari in quel momento lo porto solo una volta l'ho preso non tanto tempo fa magari in quel momento le mie labbra non erano particolarmente lisce non lo so fatto sta che mi ha deluso un po' voglio riprovarlo comunque magari cerco di leggere qualche recensione qualche cosa in più sul si su internet per cercare di capire come stenderlo meglio ovviamente colore estivo adesso non lo metterò poi il prossimo anno sicuramente poi di chico vi faccio vedere tutti e tre insieme della collezione tribe che cacchio era ho preso si tribe no non lo so ragazze adesso non c'ho un dubbio comunque ho preso questo amatito rossetto fard quelli lì famosissimi con la punta cicciona e il suo temperino nella confezione non erano questi sono andati molto a ruba se non erro sì perché hanno una grande sono molto validi quando io volevo ovviamente andare a prenderlo non c'erano più come colorazioni ed era rimasto lo 04 che vi dirò tra l'altro è molto simile al rossettino è un po' più rosa questo è più fluo questo qua è un pochino più tranquillo non mi non mi piace tantissimo come sta sulla mia carnagione l'ho messo due volte però appunto non mi ha lasciato una bella impressione come durata sì però non mi è piaciuto tantissimo come colore sinceramente quindi non lo sto usando tantissimo devo usarlo ancora sulle sulle guanciotte veramente magari dopo devo uscire lo provo poi dell'ultima collezione in effetti l'ultima collezione di Kiko almeno la penultima adesso ce n'è già un'altra hanno sfornato dei prodotti davvero davvero validi se poi con i saldi quest'inverno rimarrà ancora qualcosa vorrei prendere una palettina e magari altri rossettini adesso vediamo ho preso un rossetto e una matita scusate una matita e un rossetto non abbinati però perché ho voluto prenderli allora la matita ho preso il numero 05 che è una bella tinta forte volevo abbinarla al esatto ci sta molto bene al rossettino beverly di Nabla e in effetti non mi dispiace come abbinamento vedete ci sta ci sta molto bene sì sfumato a me piace piace molto è bello scuro proprio molto scuro decisamente autunnale invernale secondo me quindi il rossettino no non l'ho voluto prendere perché comunque appunto avevo preso recentemente questo qui beverly che ci assomiglia per cui non non lo prenderò sicuramente il rossetto ma ho voluto prendere invece una tinta nude ovvero lo 01 ed è questa qui ve lo metto vicino a pantarei però vedete che pantarei è più rosa questa qui è una puntina di malva in più decisamente ma è un bellissimo nube anche questo confortevolissimo molto burroso anche questo ottima stesura ottima durata packaging bellissimo con la calamita dettagli veramente curati prezzi rispetto ad altre collezioni più contenuti quindi davvero complimenti a Kiko perché con questa collezione hanno fatto davvero un ottimo lavoro secondo me poi un prodotto che ho adorato veramente e appena potrò farò prenderò altre colorazioni e questa tinta labbra della slick io non avevo mai provato prodotti della slick ho approfittato perché su instagram seguo la loro pagina e c'era scritto che con ordini superiori ai 15 euro la spedizione era gratuita per cui ho preso tre cosine poi il resto ve lo faccio vedere un altro video ho preso tre cosine e di questo sono rimasta davvero folgorata a parte il colore meraviglioso il colore ce l'avevo nel video precedente se vi interessa magari vi metto il riferimento guardate che colore favoloso in camera purtroppo non rende aspettate che voglio spegnere la luce a vedere per carità sono proprio al buio comunque è bellissimo vi metto magari il rimando al video dove lo indosso perché diventa davvero velluto asciuga velocissimo di nuovo stesso discorso il pennellino è una schifezza però sinceramente rispetto a quello di L'Oreal lo preferisco questo qua è meno strutturato è semplice liscio e piatto dosare bene sempre il appena lo si toglie dalla confezione si asciuga in un lampo veramente velluto non secca assolutamente è favoloso rimane omogeneo duraturo l'ho tenuto su non ricordo se ho mangiato anche sì ho mangiato cose abbastanza oleose per cui è andato poi un pochino via però veramente è favoloso rispetto al all'Oreal ho fatto confusione adesso ragazzi prima ho messo la matita scusate sono una ecco perché rimaneva così lucido ho messo la matitina vicino al gloss di L'Oreal ci sta bene anche lì ma in effetti io lo volevo mettere vicino al no non va molto bene vicino al oddio come si chiama al Beverly in effetti è un po' più scuro questo qui era il Beverly no? e questa qua è la matitina rimane più scura però sfumandolo potrebbe venire un bel lavoro devo sperimentà eh scusate ho fatto confusione se ho guardato adesso perché questo rimane più più lucidino ed era il L'Oreal vero 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 direi di sì comunque guardate lo slick è questo qui ed è davvero meraviglioso lo adoro bellissimo e questi qua ve li consiglio non hanno neanche un costo eccessivo adesso poi vado a vedere bene la fatturina vi metto bene il prezzo da qualche parte però mi sembra 5 euro 4,99 mi pare c'è la versione gloss e questa qui la versione matte davvero favolosa il numero qui è Fandango purple bellissimo poi l'ultimo prodottino questo un attimo che vado a prendermi l'altro rossettino che ho dimenticato giù ho preso proprio l'ultimo acquistino di ieri quindi non l'ho ancora provato mi è piaciuto tantissimo il colore 3 euro ogni tanto della nick questo qui che è il numero 404 air kiss mi è piaciuto tantissimo questo colore che assomiglia si ci assomiglia molto assomiglia a quello di Alchemilla è un po' più più fucsia ancora direi bellissimo colore bello pieno insomma 3 euro ce lo possiamo permettere ogni tanto raggiungerà la collezione metto un attimo in pausa così vi faccio vedere questo va giù no vi faccio vedere l'altro rossettino che adoro che mi piace arrivo subito eccomi allora l'altro rossettino l'ultimo che ho comprato è stato un'altra colorazione di Mulac ho già un vertigo che è quello di Nabla come si chiama quello di Mulac ho Flamingo che è sul violaceo e poi ho 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 Mellin che è un bel rosso fragola che adoro e ho voluto prendere questo qui che è un pochino più sul nude diciamo sul lilla un rosa con una bella punta di viola dentro puff rose ok adesso mi viene il dubbio ve l'ho già fatto vedere non mi ricordo mi sembra di no però ve lo faccio rivedere che è grandissimo fantastico ve lo metto qui no non riesco comunque questo in effetti è molto simile ad altri però diverso sappiamo benissimo benissimo che noi amanti del makeup pur essendo molto simili i colori dobbiamo provare le texture dobbiamo provare i vari brand che differenze hanno questo è un profumo fantastico che veramente ogni volta che lo apro è in estasi rispetto al Nabla per fare un esempio e magari agli ultimi di Kiko questi qui di Mulac sono un pochino più pastosi un pochino più duri da stendere però grandissima resa omogenei durata eccezionale colore pienissimo davvero la prima passata e io le adoro quando magari ci sarà un'altra promo ce n'era già una insomma l'ho lasciata andare perché vabbè ne avevo già speso un pochino però se magari poi sotto Natale o così ci saranno altre promo voglio approfittare e prendere ancora un altro colore favolosi che bella la mia mina tutta colorata va bene io vi metto i loro riferimenti al video dove indossavo flamingo che guardate non flamingo uffa questo qua di di slick il fondango purple che al momento si è asciugato guardate completamente asciutto ed è favoloso davvero sulle labbra fa un effetto con solo un pochino tanto tanto un pochino tanto tanto mascara la base e questo rossetto wow per me davvero è fantastico davvero fantastico davvero fantastico che appunto non mi piace tanto e magari c'è una tecnica per renderli un pochino più omogenei e niente fatemi sapere se anche voi avete provato quelli della slick e datemi un consiglio magari su un'altra colorazione che posso che posso prendere e e niente fatemi sapere se mi consigliate poi qualche altro rossettino di di questa in questa collezione di Kiko va bene vi ringrazio scusate come sempre il mio casino la mia confusione spero di avervi dato qualche idea su qualche rossettino magari non tanto pubblicizzato o non lo so magari quelli di Mulac non ho visto tanti boh si scherzavo però ecco no su queste di slick in effetti non ho visto tanto vi faccio poi vedere le altre due cosine che ho comprato magari in un video a parte per così per differenziare un pochino vi ringrazio tantissimo per avermi seguito di nuovo scusate la confusione e grazie mille ciao